Un'altra settimana di risultati molto importanti per le società quotate in questo periodo di così elevata incertezza, i numeri servono a farsi un'idea un po' più chiara di quello che sta succedendo, soprattutto se vengono da società molto importanti. E questa settimana sono arrivati quelli di Kering, che è il secondo gruppo del lusso al mondo, anche se come ci siamo detti spesso vale come fatturato circa un quinto del più grande che è il VNH. Poi sono arrivati quelli di Zegna, che comunque è votato a New York ma è un grande simbolo del Made in Italy. E questi due risultati sono stati comunque negativi, in particolare quello di Kering, con un calo del fatturato a doppia cifra e soprattutto con un crollo del fatturato di Gucci, che vale da sola il 40% dei ricavi del gruppo, perché nonostante ormai da un anno Gucci abbia un nuovo direttore creativo e da qualche settimana un nuovo amistro legato Stefano Cantino, non si riesce a invertire il trend. E vedremo se poi stiamo parlando dei risultati dei nove mesi, quindi abbiamo solo il dato sui ricavi, non gli indici di redditività. Vedremo a gennaio quando avremo i dati preliminari di tutto l'anno e anche alcuni indici di redditività. Zegna in realtà nel primo semestre era riuscito a chiudere anche con una piccola crescita, poi il terzo trimestre per via della Cina, dove peraltro Zegna è stato il primo marchio in assoluto a sbarcare nel 1991. E da allora poi si è molto radicato in Cina, quindi è comprensibile che un rallentamento della Cina in Cina molto su Zegna. Ragionamento opposto vale per P4, che invece ha un anno fiscale leggermente slittato, quindi ha chiuso il primo semestre fiscale in settembre, mentre gli altri naturalmente hanno chiuso i nove mesi. In questo caso è riuscito a crescere del 2%. Da una parte il gruppo P4, che comprende i marchi del Region Lanzel, non è esposto in Cina, dall'altro però approfitta anche del fatto di avere un posizionamento di prezzo diverso, che evidentemente in questo momento è molto faga. La settimana prossima siamo in attesa dei risultati di Moncler e del gruppo Prada e in particolare tra l'altro Moncler è reduce da un grandissimo evento a Shanghai per il progetto Genius e vedremo se nel gruppo Moncler, che ha anche il marchio Stone Island, vedremo come sono andati questi nove mesi e vedremo anche il gruppo Prada, che nei primi sei mesi era cresciuto in netta controtendenza. Molto bene anche Hermès, che a questo punto insieme a Cucinelli è veramente l'unico marchio del lusso che sembra immune al rallentamento che interessa il settore. Due notizie che mi stanno a cuore, la presentazione del libro di Paola Iacobi sulla storia di Luisa Spagnoli, fondatrice del marchio, e il libro sulla storia di Iceberg, un altro marchio italiano molto famoso, nello sportswear, presentato addirittura alla triennale di Milano. Quindi, ancora una volta, la moda poi per, diciamo, veramente tramandare le proprie storie, poi si affida ai libri ed è una cosa che a me piace molto.